Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7 questa mattina addirittura con 50 secondi di anticipo, questa è la rassegna politicamente scorrettissima della verità, è lunedì e come ogni lunedì è in collegamento il professor Marco Gervasoni che dovrebbe essere in ascolto. Buongiorno professore. Buongiorno Daniele, buon inizio settimana a te e tutti i nostri ascoltatori. Allora, le aperture che abbiamo selezionato, la verità, l'uomo che minaccia il conte bis è a sciare con i ricconi pakistani, di chi si tratta? Di Matteo Renzi, il senatore semplice, gira il mondo, più il suo partito scende nei sondaggi, più Renzi diventa litigioso perché teme di perdere la corsa alle nomine, intanto è sulle nevi del paese musulmane in compagnia di ex premier, dediti agli affari e di tycoon del digitale. Andiamo a vedere le altre aperture, il fatto quotidiano che sceglie un altro tema, si porta avanti col lavoro, come reagiscono o come reagirebbero, secondo il fatto quotidiano, i Benetton alla prospettiva di revoca totale o parziale delle concessioni, i Benetton rassegnati alle revoche ammettono in vendita autostrada. Corriere della Sera, doppia apertura, il titolo più evidente è sul coronavirus, i ritardi nell'allarme, e anche il Corriere deve ammettere che ci sono almeno due settimane di stacco tra quando Xi ha appreso e quando la Cina ha fatto apprendere al mondo la notizia del virus, ma l'apertura vera e propria è su Zingeretti dopo gli attacchi di Renzi, non si può vivere in mezzo al guado. Il messaggero vede le cose dal lato opposto, cioè dal lato di Renzi, Renzi è Conte, intesa o vai a casa. E ancora le ultime due aperture che abbiamo scelto. Repubblica che cambia ancora tema, decreti sicurezza, stavolta forse ci siamo, Repubblica è tutta eccitata, adrenalinica, perché oggi ci sarà un primo tavolo della maggioranza per riscrivere i decreti sicurezza, stesso orgasmo che è condiviso dal foglio, cancellare il trocismo, il direttore Cerasa ne ha parlato con la ministra Lamorgese, vedremo invece nelle pagine interne del messaggero le cose sono forse a uno stadio più interlocutorio, e infine la stampa con un'intervista al ministro degli esteri russo Lavrov, che non manca di lanciare colpi contro Washington, ma dice nuovo corso con l'Europa. Così dunque le aperture. È evidente che questa sarà una rassegna pressoché monografica, dedicata alla crisi strisciante, alla crisi diluita, alla crisi prolungata. Marco, inutile girarci intorno, questi non vogliono andare a votare, tutto si gioca sulla contrapposta e poco edificante caccia ai responsabili. Conte per trovare qualcuno che sostituisca o si aggiunga i renziani, Renzi per tenere i suoi o rimpolpare il suo gruppo. Ma si può andare avanti così per due anni? Alla fine le strade frequentate dalle prostitute non sono infinite, quindi secondo me quando hanno fatto tutti i giri delle strade più importanti della capitale forse ritornano. A parte le battute la situazione è che il governo non vuole andare a votare, non vogliono andare a votare la maggior parte dei parlamentari, non vuole il Presidente della Repubblica. Nello stesso tempo il governo nella composizione così non può funzionare. La mia impressione è che si tiri la corda qualcuno volutamente, qualcuno non volutamente, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, per poi arrivare ad una situazione di emergenza magari provocata da uno shock, può essere una guerra, può essere una situazione economica, e obbligare larga parte dell'attuale opposizione ad appoggiare un governo tecnico. Ovviamente, scusa, in questa luce più la situazione si degrada e meglio è data, per chi persegue questo disegno. Va bene, vedremo. Peraltro cogliamo l'occasione per ricordare una cosa che oggi invece sui giornali non troverete, ed è eloquente di un clima e di una cultura, oggi è 17 febbraio, è l'anniversario tragico di Giordano Bruno, il rogo, ma tranne un pezzo di Carlo Nordio qualche giorno fa sul messaggero, faticherete a ricordare quel 17 febbraio del 600, chi mise il rogo, chi per quali ragioni, e perfino le modalità, la mordacchia, affinché Giordano Bruno non parlasse. Sono cambiate le tecnologie, tutto avviene in modo meno truculento, ma chissà che qualche piccolo inquisitore, qualche piccolo censore, qualche abitudine non l'abbia dimenticata. Oggi la verità è nel numero del lunedì e quindi si raccomanda in modo particolare. Segnalo alcune delle interviste che trovate oggi, Federico Novella sente Giorgia Meloni che smentisce dissidi con Salvini, Alessandro Rico che sente Massimo Cacciari, composizioni anche che sorprenderanno alcuni, Cacciari pone il tema di una pressione fiscale troppo elevata, Stefano Filippi sente Aldo Maria Valle, il vaticanista, su posizioni molto critiche rispetto alla chiesa di Bergoglio, chi vi parla sente il senatore leghista Armando Siri che fa una disamina molto critica delle proposte economiche del governo e contropropone una sua flat tax declinata per la verità sulla famiglia. Chi è interessato? Meloni, Cacciari, Valli, Siri e molte altre cose che trovate sulla verità. Segnalo un'intervista, un'inchiesta di due pagine molto importante. Il primo pezzo è quello di Laura della Pasqua su la sanità del Lazio e i suoi disastri. Chi è il governatore del Lazio? Nicola Zingheretti. Non è un omonimo e poi un tema economico molto importante che affronteremo successivamente. Ma riprendiamo il filo del discorso. La crisi strisciante è un protagonista nel bene e nel male a seconda dei punti di vista. Matteo Renzi si occupa di lui, Maurizio Belpietro. Più Italia Viva cala nei sondaggi e più sale il livello di litigiosità del suo leader. Sì, il livello di rumorosità di Matteo Renzi è inversamente proporzionale al numero di voti che gli vengono attribuiti dagli esperti. Tutti concordano che il partito fondato dall'ex presidente del Consiglio oscilla fra il 3 e il 4%, più o meno ciò su cui nella prima Repubblica poteva contare Pietro Longo quando era alla guida del PSDI. Vale a dire un terzo, forse un quarto, di quanto oggi viene attribuito a Giorgia Meloni e circa un ottavo di ciò che vale Matteo Salvini. E tuttavia, nonostante sia un peso piuma della politica, non passa giorno senza che i giornali si occupino di lui e di ciò che dice e minaccia di fare. Poi Belpietro racconta come nessuno voglia la crisi e le elezioni e fa anche un passaggio, tutt'altro che banale a mio avviso, sul tema dell'attività legittima, ultra-legittima di conferenziere in giro per il mondo di Renzi, però Belpietro marca una differenza rispetto ad altri ex capi di Stato o presidenti o ex premier da Clinton a Blair a Obama, ma ieri c'era anche Asnar in Pakistan, tutti i leader, ironizza, progressisti in modo particolare del loro reddito, che però rispetto a Renzi hanno una caratteristica diversa. Ognuno di loro si è messo in affari dopo aver lasciato la politica. Il fondatore di Italia Viva no. Ecco, ferma restando la libertà per ciascuno, anzi molto bene di incrementare il proprio reddito e le proprie entrate, si pone però un tema di opportunità politica, se io sono un senatore della Repubblica dovrei perlomeno far sapere molto bene i temi di cui vado a parlare, i luoghi di cui vado a parlare, gli argomenti che uso, i compagni di conferenza. Sì, nulla vieta naturalmente a un parlamentare di svolgere attività private, nel senso che poi ci sono appunto parlamentari che fanno gli avvocati, però ci sono delle regole di trasparenza che se non sono fissate dalla norma dovrebbero essere fissate dalla consuetudine. E in particolare incontrare leader stranieri passati o figure stranieri passate implica poi una cosa in più, cioè nel momento quindi in qualche modo il soggetto, alla fine questi incontri sono incontri finalizzati a che cosa? ad ottenere qualcosa poi dal punto di vista delle proposte di legge, insomma una serie di problemi che sicuramente attraverso una maggiore chiarezza, come dici tu, potrebbero essere, come dire, dei nubi che potrebbero essere eliminate. Ieri per esempio c'erano tanti esponenti, per carità è tutta una cosa interessantissima, di grande facile, insomma c'erano 3-4 esponenti legati ad Affinity, una società di intelligenza artificiale, che hanno evidentemente sentito l'esigenza di coinvolgere Renzi. Va bene, riprendiamo il filo. Nella stessa pagina della Verità, la terza, dove gira l'editoriale del direttore Belpietro, nella metà inferiore c'è un pezzo di Luca Telese che mette a fuoco, è uno degli snodi della giornata di ieri, perché c'è un personaggio che si chiama Goffredo Bettini, che non è notissimo al grande pubblico, ma è un uomo di grande peso, non solo fisico, non faremo questo tipo di battutacce, di grande peso politico, anche di notevole visione e intelligenza strategica, è l'uomo che a sinistra si è inventato tutta una serie di candidature a sindaco a Roma, a Darutelli, a Veltroni e così via. È considerato il papà politico di Zingaretti e allora quando ieri ha pubblicato su Facebook un lungo post fiammeggiante contro Renzi dicendo sostituiamo i parlamentari di Italia Viva con dei responsabili eccetera, naturalmente si è scatenato un pandemonio, tale che a fine giornata lo stesso Bettini ha dovuto precisare no ma io non intendevo sostituire, intendevo aggiungere. Vediamo come però altri quotidiani interpretano tutta questa vicenda che si apre. Libero ha un approccio diciamo così simpatetico nei confronti di Renzi o almeno critico nei confronti della riuscita dell'operazione per sostituirlo. Salvatore Dama, pagina 4, il piano DEM per Rottamare Renzi è già fallito e questo diciamo è lo spin che i renziani hanno dato ieri sera. Guardate che questi i parlamentari non ce l'hanno. Da questo punto di vista nel pezzo di Dama si dice ma guardate questa è tutta un'operazione per spaventare Renzi. Nella stessa pagina trovate un pezzo di Becchi e Palma, il professor Becchi e l'altro saggista Giuseppe Palma, che individuano l'altra cosa furiosa della giornata di ieri su cui pure il professor Gervasoni potrà darci la sua opinione. Il giorno prima c'era stato un incontro tra Conte e Mattarella, ieri i giornali avevano descritto in modo abbastanza convergente una specie di avallo quirinalizio alla ricerca di altri numeri per consolidare la maggioranza, reazioni furiose dei renziani, un renziano ansaldi che diceva qui è stato Rocco Casalino a far uscire queste cose, Casalino che ha risposto evocando mi pare l'articolo 595 del codice di procedura penale, cioè la diffamazione. Marco, chi è stato? Chi ha lasciato l'impronta? O ci sono più impronte o c'è da convocare Hercule Poirot per risolvere il giallo? Ma non lo so, nel senso che non si capisce se l'incontro c'è stato o non c'è stato, se c'è stato chi l'ha chiesto, resta il fatto che certamente il segnale è abbastanza anomalo della smentita del Quirinale, cioè il Quirinale che ufficialmente smentisce appunto il Presidente del Consiglio è qualcosa di abbastanza raro, dalla misura sicuramente di una grande confusione all'interno del governo, ma anche di una grande imbarazzo quirinale, ovviamente tutti sanno che questo è una sorta di governo Conte-Martarella, però nello stesso tempo Martarella non vuole entrare più di tanto, soprattutto perché non è il ruolo del Presidente della Repubblica e quindi sarebbe fuori la Costituzione. Secondo luogo perché anche lui capisce che appoggiare questo governo è qualcosa che indebolisce, se vogliamo usare un eufemismo, indebolisce l'autorevolezza di qualcuno. E in effetti ieri a un certo punto della giornata è arrivata una nota ufficiale dell'ufficio stampa del Quirinale che smentiva quei retroscena. Al Quirinale arriveremo alla fine attraverso Marzio Breda che diceva qui le interpretazioni del Quirinale le faccio io e mica le faccio fare ad altri, ma lo terremo alla fine. Prima andiamo a vedere come quattro giornali e cioè Corriere della Sera, Giornale, Messaggero e Repubblica vedono le cose dopo che abbiamo visto La Verità è Libero. Corriere della Sera va visto per tre cose, un pezzo di Marco Ghialluzzo che racconta le cose dai due punti di vista perché poi in serata anche Conte ha detto no, no, io non cerco numeri aggiuntivi, no di Conte ad altre maggioranze, ma Renzi insiste, dice intesa con noi ho lasci, insomma, Renzi vuole far valere il suo potere contrattuale, dice qui dovete rifare l'accordo con noi, attenzione però perché nel pezzo c'è una cosa che farà molto arrabbiare i Renziani e una cosa che farà ridere tutti gli altri. La cosa che farà molto arrabbiare i Renziani è un elemento velenoso inserito nel pezzo, nel palazzo del governo hanno sondaggi di cui non fanno mistero secondo i quali Italia Viva sarebbe al 2% con un margine di errore proprio di due punti, quindi virgolette potrebbero essere prossimi anche allo zero. voi capite bene che se Marco Ghialluzzo dice che nel palazzo del Premier hanno questi sondaggi non ne fanno mistero e poi mette un virgolettato e ancora oggi ci sarà materia per dibattito tra i Renziani e Rocco Casalino. Invece qual è la cosa che fa sorridere tutti gli altri Renzi che dal Pakistan cita sulle piste di sci innevate cita Confucio la pazienza e potenza ma noi ne abbiamo tanta il gelso diventerà seta. Va bene. Nella pagina accanto c'è Maria Teresa Meli che oggi è diciamo nell'angolo del ring di Zingaretti che dopo che il suo amico Bettini ha picchiato può permettersi di essere più conciliatorio e conciliativo Zingaretti niente picconi il PD non ha avversari dentro la coalizione il PD non ha avversari la politica è responsabilità e fatica di costruire. E infine terza cosa che citiamo sul Corriere è quello su cui avevamo aperto con il commento di Gervasoni Tommaso Labbate gara per i voti al Senato in campo i reclutatori rispunta anche Verdini e si dice qui ci sono naturalmente Franceschini e gli altri nell'angolo di Conte Verdini nell'angolo di Renzi e poi un po' di soggetti che agiscono in proprio Paolo Romani al Senato la Polverini alla Camera Cesa non sappiamo dove forse a casa sua insomma Marco però già qua siamo in un clima libico di cammelli e cammellieri e se poi verrà messo un proporzionale poi non è che ci si deve lamentare se la politica sarà gestita solo da capitani di ventura in cerca di qualcosa per se stessi no? Beh no è chiaro che se questa è la situazione chissà col proporzionale effettivamente si avrà un fenomeno di ulteriore frammentazione perché introduzione del proporzionale probabilmente nasceranno alcuni partiti a sinistra probabilmente due forse due o tre sulla destra e quindi si verrà a comporre questa specie di melassa che si sposta ora di qua ora di là e che diciamo mantiene in vita il governo poi questo prima delle elezioni dopo le elezioni più col taglio dei parlamentari insomma la situazione è pessima davvero davvero non si vede via di uscita sul giornale c'è Laura Cesaretti che va sempre letta perché diciamo nella classifica nella chat Renzi ha i suoi la Meli la Cesaretti vanno sempre tenute d'occhio ieri la Cesaretti in modo lirico descriveva Renzi sulle montagne innevate insomma sembrava di vedere James Bond o forse Boldi e De Sica a Cortina ognuno può scegliere diciamo qual è il riferimento oggi la Cesaretti sempre sul giornale sente Maria Elena Boschi che tiene la posizione che avevamo anticipato cioè i renziani dicono nessuna marcia indietro nostra è il premier che si è accorto di non avere i numeri andiamo a vedere la risposta più significativa sono giorni che a Chigi e al Nazareno lavorano per trovare dei parlamentari per sostituirci in maggioranza peccato si siano accorti di non avere i numeri ora rilanciano certo la giustizia non mi pare il tema più facile su cui trovare appoggio a destra se poi Conte dopo aver governato dalla destra e la sostituita dalla sinistra ora pensa un miscuglio destra-sinistra auguri e la battuta della Boschi è indubbiamente efficace peccato che però il padrino e la madrina di questo governo siano proprio Renzi e lei e lei stessa spostiamoci sul messaggero dove c'è una pagina da guardare perché aggiunge diciamo un elemento che già conosciamo ed è il pezzo di Barbara Ierkov dall'angolo renziano e ripete esattamente le cose della Boschi Renzi a Conte intesa o a casa quindi dovete fare l'intesa con noi al piano di sotto Marco Conti dice Palazzo Chigi congela l'operazione responsabile ma attenzione non fa riferimento alla nota diciamo pure formale di ieri sera il presidente del consiglio non è che poteva dire sì sì sto con l'agenda telefonica a cercare dieci senatori ma aggiunge Marco Conti un elemento che effettivamente Conte deve considerare pur nella sua spregiudicatezza Marco e cioè dice guardate che l'operazione responsabili rischia di non piacere al Movimento 5 Stelle che difficilmente potrebbe sopportare un'operazione razzi scilipoti Marco c'è anche questo problema però no? cioè non sarà facile per i grillini ingoiare qualunque cosa ma io questo lo vedrei fossi in Conte come l'ultimo dei problemi cioè per i 5 Stelle è priori i parlamentari 5 Stelle prioritario è non andare a votare quindi chiunque anche Jack lo squartatore Hannibal de Cannibal che diciamo attraverso il suo voto attraverso la sua la sua azione può evitare di di evitare il fatto drammatico che molti di questi parlamentari dovrebbero pagarsi il mutuo e sostanzialmente non avendo né arte né parte né avendo mai lavorato in vita loro smesso di essere parlamentari avrebbe un reddito zero quindi non si vede come possono pagare il mutuo potrà sembrare diciamo ferocemente antiparlamentaristica questa considerazione ma questa è la realtà diciamo che muove perlomeno la maggior parte dei deputati dei 5 stelle per cui quello non è un problema può arrivare chiunque per loro secondo me secondo le stime va ricordato non solo tra i grillini ma tra tutti i parlamentari tra crisi dei rispettivi partiti taglio dei parlamentari nuove regole elettorali sette parlamentari su dieci non sarebbero rieletti e dunque il partito delle mogli dei mariti del moto degli amanti ha un suo peso se vi convince l'osservazione fatta da Gervasoni più del retroscena di Marco Conti e allora fa per voi il retroscena di Repubblica pagina 5 Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea che vi dice no no guardate qui i responsabili li stanno veramente cercando spuntano i democratici si chiamerebbe così il gruppo per blindare Conte il premier e Zingaretti pensano a una pattuglia di parlamentari formata da transfugi eccetera eccetera circola il nome che sarebbe appunto i democratici più cauti Franceschini e Guerini diamo una chance a Renzi Repubblica sente anche Ettore Rosato che però ripeto abbiamo già visto la Boschi la posizione dei renziani i renziani che si preparano una settimana fiammeggiante perché mercoledì Renzi è a porta a porta giovedì ripresenta il famoso piano shock che è un po' come gli addi di Maradona al calcio ce ne sono stati 10 11 12 e così le presentazioni del piano di Renzi per le opere pubbliche fino sabato alla loro assemblea che potrebbe essere il momento dell'annuncio vedremo di cosa invece c'è Marzio Breda che dice qui ragazzi il ventrilogo sono io no questo non lo dice Breda lo diciamo malignamente noi Breda è un quirinalista informatissimo che però mette anche lui i virgolettati cioè esattamente quello che ieri il quirinale aveva smentito wait and see traducibile meno elegantemente con il calma e gesso che pronunciano i giocatori di biliardo quando devono fare un tiro difficile e prendono tempo strofinando con il gesso la punta della stecca e qui siamo scegliete voi se Robert Redford della stangata o diciamo la versione più recente di Tom Cruise ci descrive Breda un quirinale così immaginateli Mattarella con il segretario generale che appunto ha biliardo eccetera ma andiamo a vedere il punto cruciale del pezzo di Breda che fa riferimento ai retroscena di ieri azzardando perfino dei botte e risposta che hanno destato stupore cioè irritazione al quirinale costretto a una delle sue rare smentite ora è ovvio che Conte abbia illustrato il quadro di destabilizzazione progressiva di cui è vittima da parte di Italia Viva e che si sia anche detto convinto di avere qualcuno pronto a sostituirlo in quel partito per nulla ovvio invece che Mattarella si sia esercitato con l'interlocutore in una contabilità parlamentare vagheggiando magari futuribili cambi di maggioranza o che si sia spinto a condividere l'idea di mettere insieme un gruppo di responsabili eccetera eccetera va bene qui c'è la smentita ma attenzione questo presidente della repubblica non è uomo da manovre coperte e ha lasciato intendere già in agosto quando questo esecutivo è nato che la formula di governo giallorossa è l'ultima praticabile e che se fallisse magari per un incidente in aula resterebbe solo il voto non prima di settembre però considerando l'ingorgo di adempimenti prodotto dal referendum di fine marzo alle urne ci si andrebbe quindi con un nuovo governo elettorale e Marco qui i pessimisti possono dire va bene è la solita storia a palla lunga magari si fa un altro governo però siccome Breda avrà parlato con qualcuno al Quirinale le parole hanno un senso e la tradizione democristiana pure governo elettorale vuol dire governo elettorale cioè senza politici con una specie di prefettone che sta lì qualcuno può vedere una prima apertura una chiusura di legislatura in questo retroscena o sarebbe troppo ottimistico secondo te no secondo me io sono del partito dei pessimisti i governi elettorali erano tipici della prima repubblica in cui o elettorali oppure diciamo balneari e quando il partito democrazia cristiana controllava rigidamente non solo il Quirinale ma anche Palazzo Chici dopo nella seconda repubblica quelli che sono stati spacciati come governi elettorali e così sono in realtà durati molto di più e alle elezioni poi ci si è andato successivamente l'altra cosa da dire è che mentre leggevi il passaggio di Breda io mi ricordo che Breda diciamo scrive del Quirinale da moltissimi anni ha scritto in molti presidenti di ogni presidente compresi Scalfaro e Napolitano scrisse che questo presidente in quel caso Scalfaro Napolitano adesso Mattarella non si lasciava prendere dalle manovre parlamentari eccetera eccetera ma allora chi è il presidente se Scalfaro Napolitano e Mattarella non hanno mai diciamo fatto manovre parlamentari chi le ha fatte magari questo bisogna richiederlo a Breda poi nel caso di diciamo il giudizio storico sui due dei tre presidenti citati ci rimanda invece a uno scenario in cui il presidente faceva le manovre parlamentari per cui non vorrei che anche qui ci sia come dire fra qualche anno Breda scriverà che l'altro nuovo presidente della repubblica questo presidente della repubblica non fa manovre parlamentare gli altri sì a essere spiritosi e maliziosi ma Breda che è uomo di spirito apprezzerà sicuramente la sua frase è questo presidente della repubblica non è uomo da manovre coperte e vale forse anche per solo scoperte non coperte ma questa è una battuta se sono scoperte deve scattare una denuncia per violazione non ci portiamo troppo avanti devono per forza essere coperte va bene allora l'altro ci sono altre due questioni che vanno esaminate prima delle conclusioni i decreti sicurezza su cui oggi sui giornali ci sono due versioni molto differenti una vede diciamo appaiati repubblica e foglio il foglio come ormai supplemento di repubblica cancellare il trucismo Claudio Cerasa parla con la ministra Lamorgese sicurezza immigrazione Europa prescrizione coronavirus porti aperti tweet chiusi cosa vuol dire superare la stagione del salvinismo di governo con i fatti e non con le chiacchiere numeri idee spunti notizie una chiacchierata manifesto con il ministro e l'interno Luciano Lamorgese avete capito che Cerasa è adrenalinico nel colloquio evidentemente stimolante intellettualmente con la Lamorgese stessa aria su Repubblica che titola con aria di festeggiamento decreti sicurezza forse stavolta ci siamo perché ci sarà una riunione tecnica pagina 2 ecco il piano che smonta i decreti Salvini piega tutto Alessandria Ziniti a rafforzare a dare nella logica di Repubblica peso e popolarità all'operazione ci sono le sardine che vanno sempre come due vongole si aggiungono sempre in questo caso le sardine le sardine in piazza via quelle leggi oppure è meglio tornare alle urne quindi chi legge Repubblica e foglie dice ragazzi qui mettete l'orologio perché la cosa è fatta è più problematico il messaggero Emilio Pucci siamo a pagina 5 del messaggero che ferma la riunione di maggioranza ma dice sicurezza maggioranza divisa è lite sui decreti da riscrivere oggi vertice con la Morgese sui decreti Salvini Dem e Leo dicono aprire sui permessi umanitari ma c'è l'autolà dei 5 stelle e anche qui non sarà facilissimo per i 5 stelle dire che quello che loro fecero passare è adesso no fa schifo va corretto cose economiche ce ne sono tre da segnalare due sul giornale Antonio Signorini sul tema delle partite IVA e il pasticcio combinato dal governo giallorosso che ha eliminato forse l'unica cosa economicamente buona e forte fatta dal governo gialloverde e ancora un approfondimento del giornale sui negozi e le piccole imprese che chiudono mentre vi raccomando particolarmente sulla verità non guardate la firma perché è conflitto di interessi ma dimenticate chi l'ha scritto ma c'è un'analisi molto grave e preoccupata sul cosiddetto codice di impresa è l'ultimo regalo fatto nel 2017 con una legge delega ai tempi del governo Gentiloni poi attuata successivamente il lavoro era pronto e il governo gialloverde ebbe il torto di non fermare la macchina di che si tratta di una roba che ammazza le società a responsabilità limitata stabilisce che l'amministratore possa rispondere con tutto il suo patrimonio che è esattamente il contrario della logica delle società a responsabilità limitata morale che succede è di tutta evidenza molti eviteranno come la peste di aprire imprese di fare gli amministratori e semmai andranno a caccia addirittura preventiva di teste di legno un altro colpo all'impresa in Italia la verità è il secondo titolo più evidente in prima siamo alle segnalazioni conclusive e anche al parere conclusivo se crede del professor Gervasoni sul coronavirus con un paio di cose in un bel pezzo di Antonio Socci sul libero che racconta la figura ormai un eroe e meritatamente va considerato un eroe il dottor Lee l'oculista che scoprì il coronavirus che fu ridotto al silenzio del regime ma lui continuò a curare la gente in corsia si è preso la malattia oggi Socci dice probabilmente era cristiano ma al di là delle sue scelte di fede è un uomo di 34 anni che aveva un figlio ne stava con la moglie aspettando un altro insomma una storia davvero struggente il Corriere della Sera che pure non è un giornale sinofobo anzi è assolutamente sinofilo e XI filò cioè amico del leader XI che vedemmo incredibilmente sulla prima del Corriere oggi deve ammettere che ci sono 13 giorni di buco nell'allerta XI sapeva del virus già il 7 gennaio ammissione involontaria di una rivista del partito i morti sono 1665 i contagiati 70.000 questo secondo la contabilità del regime sapete che la stampa anglosassone dice guardate che possono essere 5, 6, 7 10 volte di più Marco che per carità non giochiamo noi a fare i virologi e gli immunologi ma insomma mi pare che il rischio di circolazione in tutto il mondo di questa roba sia molto più forte delle sempre meno credibili rassicurazioni che vengono da Pechino e pure dall'OMS no? Sì sì da quello che si può leggere sicuramente sì diciamo e non è neanche chiaro quali misure diciamo quali misure possano essere prese efficacemente perché effettivamente controllare le epidemie nell'epoca delle frontiere permeabili diventa molto più complicato che non farlo nei tempi in cui le frontiere erano più chiuse frontiere che riguardano sia lo spostamento di uomini che di merci sta di fatto che come dire la possibilità per esempio ieri evocata sui giornali di un'estensione del virus in Africa avrebbe effetti devastanti non solo sull'Africa ma poi anche sugli immigrati che vengono in Europa prevalentemente dall'Africa quindi non immagina altro che blocco navale diciamo così un scenario di cui il blocco navale sarebbe la misura diciamo più più di sinistra in questo caso volevo aggiungere solo una cosa che non c'entra niente però annunciarlo secondo me qualcuno ha scritto preoccupato i premi diciamo per una scelta mia sono per il momento come regolarità i premi finali sono sospesi poi ogni tanto se trovo qualche chicca ci saranno ecco ma non sarà più un appunto per quanto mi riguarda un appuntamento regolare quello dei primi qualcuno l'aveva chiesto anche a te anche a me sui social quindi è giusto come dire spiegare perché non c'erano più allora il nostro tempo è concluso ringrazio il professor Gervasone ringrazio chi ci ha seguito e naturalmente ora però l'invito è terminata questa rassegna che resterà disponibile sui canali social twitter facebook della verità su cui siamo andati in diretta è quello di passare in edicola apprendere la verità che come avete visto oggi è piena di cose di commenti di inchieste di interviste tutte da leggere buona giornata a tutti e anche al professor Gervasoni buona giornata grazie a tutti